Bene ragazzi, dopo il video che abbiamo fatto con le denunce è giusto dedicare del tempo prezioso a tutti quelli che mi vogliono bene Come ben sapete, io sono stato sabato e domenica al Games Week e ho potuto abbracciare un sacco di voi ho fatto anche moltissimi autografi e foto ed è giusto appunto dedicare del tempo prezioso a tutti voi che mi volete bene Io ho abbracciato, io ho firmato autografi, ho fatto delle foto con voi Ero stato molto emozionante anche perché voi mi avete detto sempre vai avanti così, non preoccuparti per queste persone qua e io mi sono ricaricato in quel momento, grazie mille ragazzi Poi ho avuto il piacere di incontrare Brazzo Crew, Dexter, Joker, Ciccio Gamer che mi hanno abbracciato anche loro Se avete la possibilità di conoscerle raga, sono delle persone fantastiche e disponibilissime Comunque adesso vedrete tutto nel video Vi mando indietro nel tempo, nei miei due giorni di Games Week che ho fatto Un bacione raga, buona visione! Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo al Games Week Pensavo che erano qualcuno ma in realtà non c'è nessuno Cioè guardate, non c'è veramente nessuno Ciao a tutti! Ciao a tutti! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti